Il ministro Bussetti ha criticato i maestri meridionali, dicendo non mi impegnate abbastanza. No, 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 non ha attaccato i maestri meridionali. Ha detto che non è un problema di risorse, è un problema di impegno. No, no, è un problema, ma questo vale da Bolzano a Lampedusa. Non sempre, o dico da ministro dell'interno, non sempre servono solo più risorse. Occorre impegnarsi, ma questo in Trentino come in Sicilia non è un problema di latitudine o di dove uno ne... occorre nel pubblico impiego a tutti i livelli premiare il merito, non solo nelle scuole. Occorre premiare il merito, penso anche alla RAI, occorrerebbe premiare il merito.